Un'ispezione approfondita, quella che è stata condotta al centro di accoglienza di Pian del Lago, alla baraccopoli allestita sotto il ponte della strada statale 640 e all'impianto sportivo Michelangelo Cannavo, trasformato dai migranti in rifugio, quella dell'onorevole Salvatore Iacolino, europarlamentare di Forza Italia, che ha così accolto l'invito del consigliere comunale Oscar Aiello, che a seguito di un servizio mandato in onda su un telegiornale di un emittente nazionale che analizzava la drammatica situazione dei migranti ospiti in città, ha chiesto l'intervento dell'Europa. Durante il suo sopralluogo, l'onorevole Iacolino, oltre a constatare la situazione del centro e degli impianti, si è anche soffermato a parlare con alcuni di loro per capire meglio la situazione che vivono e il loro dramma. Una voce unanima a quella degli extracomunitari, che hanno così raccontato il loro viaggio della speranza verso la Sicilia per trovare pace e serenità, la loro disperata ricerca di un lavoro e lunghi tempi di attesa per aver riconosciuto lo status di rifugiati politici da parte dell'apposita commissione. Ci sono alcune cose che certamente non vanno bene, altre che sono migliorabili. Certamente i tempi di attesa per ottenere lo status e la condizione di rifugiato sono particolarmente lunghi e lì la scelta da parte del Ministro Ero degli Interni deve essere quella di prevedere altre commissioni, altre sezioni per agevolare un compito che non è semplice. Nel contempo vi è molto degrado fuori, vi è un'esigenza di rimuovere alcune questioni che sono veramente imbarazzanti e fastidiose. Qua siamo sotto un ponte dove vivono in condizioni assolutamente disagiate decine e decine di migranti in attesa di entrare nel centro per la richiesta di una domanda di asilo. Vi è poi una struttura importante e sportiva che è sottratta alla fruizione collettiva per essere invece destinata ad un'attività e ad un utilizzo che è certamente difforme da quelle esigenze che sono proprio invece della città di Caltanissetta. Bisogna intervenire e lo farò senza indugio successivamente a questo incontro separando le questioni che riguardano l'interno delle strutture che noi abbiamo visto qua a Pian del Lago che sono tutto sommato in linea con gli standard europei da quelle situazioni assolutamente imbarazzanti che una città importante come Caltanissetta non può negare che esistano. Quindi è importante intervenire con prontezza. Sono dell'avviso che occorre conciliare le esigenze di sicurezza con quella di tutela del decoro e della dignità del migrante ma talune e barriere sono assolutamente essenziali e non ci sono soltanto in Italia. C'è una legge bossi fini, si chiamerà Kramer contro Kramer in Germania, così come c'è in Spagna, così come in Francia. Può essere migliorata e noi dobbiamo lavorare tutti quanti insieme per migliorarla. Dobbiamo farlo tenendo conto che questa condizione di estremo degrado nel terzo millennio, nel 2014, non può e non deve esserci.